Sormano è stata la salita più dura di questa gara, eravamo in tanti favoriti, siamo scesi da Civiglio, io stavo bene e potevo attaccare nell'ultima discesa, avevo un buon vantaggio e ho potuto tagliare il traguardo per primo a coma. Questa vittoria è innanzitutto per me stesso, ma anche per il team, vincere una gara monumento è sempre speciale, questa è la mia prima monumento, ero in forma da tutta la settimana, abbiamo pedalato bene e oggi ho finito primo. Io credo che la salita di Civiglio sia stata dura non solo per la parte fisica, ma anche per quella tattica, tanta tensione, per cercare di capire alla fine in che momento attaccare o aspettare o avere pazienza, sì, credo proprio che Civiglio sia stata dura più che per lo sforzo, proprio per la strategia. Io credo che il Civiglio, ma anche per lo fisico, per lo tattico.